Tutto pronto a Verbicaro per i lavori di manutenzione straordinari alla strada provinciale 5. Domani si terrà un sopralluogo tra progettista e ditta che eseguirà i lavori. Il tratto a breve sarà infatti interessato da interventi di sistemazione. L'area con esattezza al chilometro 7 più 500 rientra tra quelle infrana della provincia di Cosenza, dunque sarà oggetto di misure ed opere di manutenzione così da garantire il miglior transito a chi quotidianamente la percorre. Franco Germano, tecnico progettista, ci ha spiegato i particolari degli interventi. Il costo dell'opera è finanziato dall'amministrazione provinciale di Cosenza e siccome siamo in un luogo dove è in atto il dissesto idrogeologico, quindi il terreno qui a Verbicaro è un terreno particolare, siccome sono degli argilloscisti, per lo più sono argilloscisti che con il dilavarsi con l'acqua piovana praticamente si deteriorano nel tempo e di conseguenza diventano un terreno fragile e quindi che crea problemi sia ai tratti viari come agli edifici presenti nel centro abitato di Verbicaro e quindi l'unica cosa, una delle cose principali da fare è rimediare attraverso interventi di ingegneria naturalistica, quindi provvedere alla raccolta delle acque, alle acque piovane, alle acque sorgive a monte, fare delle opere nel sottosuolo per il consolidamento e la sistemazione del tratto viario. Grazie.